Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it Continuiamo a parlare di Adobe Media Encoder Ultima lezione anche se su questo software potremo creare un corso a parte perché ci sono molte applicazioni del Media Encoder che non vedremo in questa introduzione ovviamente abbiamo la possibilità di creare una watch folder possiamo unire più file in un unico file ci sono diverse cose che possiamo fare con questo applicativo ma per motivi di tempo e per motivi anche di contenuti non li vedremo in questo corso introduttivo a Premiere Pro ricordiamo che stiamo parlando sostanzialmente di Premiere questa è solo un'infarinatura al Media Encoder quest'oggi vedremo come utilizzare il Media Encoder dicevo in maniera autonoma per convertire un file prima però vi ricordo come sempre www.fabianbrosi.it sito dove troverete l'indice con tutti gli argomenti del corso introduttivo a Premiere Pro se vi siete persi qualche lezione e volete recuperare qualche argomento o se volete farlo tutto ci sono lì tutti gli articoli belli catalogati con l'indice con le clip video di questi video tutorial iscrivetevi altrimenti a questo canale YouTube anche qui chiaramente trovate la playlist con il corso di Premiere Pro c'è anche il corso di After Effects sia sul sito che sul canale YouTube se avete voglia e cercatemi su Facebook la pagina da cliccare ormai chi mi segue da tempo lo sa è Fabio Ambrosi mettete un like e teniamoci chiaramente in contatto bene detto questo torniamo ad Adobe Media Encoder come si converte un file bene cancelliamo quello che abbiamo già fatto quindi seleziono tutto premo cance sulla tastiera ovviamente confermo e via la query list la lista della coda di rendering è vuota come si fa ad importare un file per la conversione in Adobe Media Encoder come sempre Adobe ci permette di fare la stessa cosa in tanti modi differenti ormai avete capito un po' il giochino no? possiamo cliccare come ci suggerisce qui tra l'altro la scritta direttamente nella finestra della coda di rendering due volte ci verrà aperta la finestra per navigare nel nostro computer e cercare il file da convertire possiamo utilizzare qui il pannello della libreria dove possiamo navigare nei file del nostro computer individuare il file e poi trascinarlo qui nella coda di rendering possiamo andare nel menu file aggiungi sorgente tasto di scelta rapida ricordate ctrl i un po' come in premiere quando importavamo oppure potete fare un banalissimo drag and drop ipotizziamo di voler convertire questo che era il video progress in altissima qualità del video che avevamo convertito nella lezione precedente lo trascino nella coda di rendering il file viene questa volta aggiunto molto più rapidamente rispetto a un progetto premiere un progetto premiere porta con sé effetti transizioni quindi chiaramente l'import è un pochettino più lento quando è solo un file è molto rapido a questo punto possiamo scegliere come voler convertire questo video in origine era un un prores in H in 422 quindi una qualità abbastanza abbastanza elevata ipotizziamo di voler fare un H264 quindi scegliamo nell'elenco del formato la voce H264 possiamo scegliere un preset tra i tanti disponibili oppure possiamo cliccare su come sorgente e poi andare ad impostare il codec video come preferiamo quindi possiamo dare una codifica bitrate costante non so a va bene 15 megabit per esempio diamo un ok scegliamo una posizione dove esportare il nostro video e un nome chiaramente lo chiamiamo nuovo video per esempio nuovo video quanta fantasia e via il file è pronto per essere convertito posso aggiungere altri file se voglio quindi per esempio posso prendere questi altri due file portarli dentro fare la stessa cosa un po' che ho fatto poc'anzi come potete vedere qui chiaramente i file avendoli convertiti esportati nella scorsa lezione alla fine è sempre il file è sempre lo stesso però potrei chiaramente importare tanti video differenti quando sono pronto convertiamone solo uno in questo caso quando sono pronto premo il tastino qui in alto a destra la freccettina verde e il media encoder fa il suo lavoro essendo un file molto piccolo molto breve di breve durata e non dovendo elaborare una timeline di premiere ci mette pochissimo e il nostro file eccolo qui è stato convertito come da nostra volontà in un mp4 h264 dicevo che il media encoder può fare tante altre cose anche qui possiamo voler convertire ancora questo file vedete che io non ho più la spunta sul tastino verde della freccia verde abilitato perché il video è già stato convertito e nella query list nella coda di rendering non ci sono altri video da convertire ma io se io volessi convertire ancora lo stesso file posso selezionare il video in questo caso scegliere con il tasto destro del mouse la voce ripristina stato quindi il video non è più segnato come encodato ma viene risegnato come da encodare posso ancora scegliere altri 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 formati per esempio non so posso esportare un mp4 anche un mp3 volessi creare un audio dal video che è qui presente posso esportare un mp3 quindi il software mi andrà a creare un mp3 in questo caso con un bitrate a 128 kilobit per il momento va bene la destinazione è sempre quella per adesso va benissimo clicco sul bottoncino verde ecco vedete che nemmeno deve pensarci troppo perché esportare l'audio chiaramente è molto più veloce rispetto a esportare un video vedete che io qui ho la versione mp3 della clip video che ho appena che ho appena convertito quindi doppio clic non c'è niente da sentire particolarmente di particolarmente interessante però ecco questo è il work è il workflow dicevo ci sono molte altre cose che è possibile fare con il media encoder non le vedremo in questo in questo corso introduttivo più avanti probabilmente faremo un po' di tutorial avanzati sul media encoder se vi interessa chiaramente l'argomento per il momento mi fermo qui amici siamo giunti alla fine del corso non pensavo di dirlo le conclusioni le tireremo nel prossimo nel prossimo video tutorial in cui chiuderemo questa avventura durata praticamente un anno un anno e qualche mese io ho ricevuto molti messaggi e continuo a ricevere molti messaggi da parte vostra per chiedere altre informazioni o anche semplicemente per ringraziarmi o per commentare i video che sono pubblicati su youtube io ovviamente vi ringrazio continuate a seguire il corso di After Effects che adesso riprenderà in maniera più intensiva giustamente abbiamo dato spazio e priorità a Premiere Pro nel prossimo tutorial nel prossimo video faremo tireremo le conclusioni di questo corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro durato un anno e mezzo per il momento vi ringrazio se avete perso qualche lezione recuperatela sul sito internet www.fabbiambrosi.it lì c'è l'indice con tutti gli argomenti di questo corso oltre al corso di After Effects iscrivetevi a questo canale youtube perché altri tutorial comunque arriveranno non ci fermiamo qui anche se il corso è chiuso e i software di Adobe sono tanti a voglia ancora dobbiamo parlare di Audition magari dobbiamo parlare di un po' di Photoshop quindi di cose da dire ne abbiamo ancora tante quindi iscrivetevi a questo canale youtube per tutte le novità vi rimando alla mia pagina facebook cercate la pagina Fabio Ambrosi mettete un like o seguitemi come preferite e lì riceverete tutti gli aggiornamenti e le prossime iniziative compresi i corsi live i tutorial live che dalla settimana prossima inizieranno su questo canale youtube quindi che dirvi teniamoci in contatto al prossimo video tutorial ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti